ciao ragazzi e bentornati al nuovo svuota la spesa al conad abbiamo preso una bottiglia di vino rosso poi dei pezzetti di parmigiano della pirandi teneroni una confezione di caffè genica salpa spazio da 10 rotoli un preparato del risotto della polare poi del prosciutto cotto nuovo video svuota la spesa spezzone sulla stagal lidl allora ho preso questa confezione di scotex da 2 ai agrumi ed è buonissimo si sente tantissimo il limone se li trovate ve li consiglio perché veramente sono buonissimi cioè anche se non sono aperti già si sente il limone se vi piace la profumazione del limone ovviamente ve li consiglio poi abbiamo preso due bottiglie di vino orvieto una bianca e una rossa sangiovese poi ho preso i fazzolettini questi qua della flora lis poi un'altra bottiglia di vino sempre rosso questo qua montepulciano d'abruzzo poi hamburger di bovino questi qua piacciono tanto poi ho voluto riprendere il mais dolce precotto che noi lo facciamo sulla piastra buonissimo poi ho preso le mini baguette per Emanuele che devi fare la scena e poi ho preso un panino questo qua i cereali due yogurt uno a l'albicocca e un altro al caffè e poi io mi sono presa un rossettino che vi farò vedere quello la della Sien ho preso il numero 12 che poi nel video degli acquisti del mese vi farò vedere meglio per il momento è tutto al prossimo ciao ragazze ciao ragazze bentornati sul canale spezzone svuota la spesa all'emd allora abbiamo preso un pezzo di pane poi delle coche perché stiamo in partenza e quindi abbiamo preso un po' di coca cola per portatele in viaggio quindi abbiamo preso un po' di coche abbiamo preso un po' di coche se coche poi una sprite anzi ne abbiamo preso due due sprite poi una bottiglia di tè alla pesca anche un'altra e poi una passata pezzi infine abbiamo preso un po' di aspettati che è lo speck per questo spezzone è tutto al prossimo ciao ragazze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti